Come è Romagnia? Molto bellissima. Ti piace la Romagnia? Molto. Ti visiti tutte le città? Sì, ho avuto molti, molti paesi qui in Romagnia. Voi venite sempre in Romagnia? Sì, tre o quattro volte al anno. Abbiamo un ofice qui per il negozio e io vengo regolamente per vedere il nostro ofice qui. Che puoi dire di noi del film Ferrari? Non lo so, non ho visto ancora, quindi ti lo dirò in fine. Oh, in fine. Ho una grande aspettazione, tutti dicono che è un film fantastico, ma non ho visto ancora. Quindi è fantastico, chi ti diceva che è fantastico? Mr. Ferrari. Puoi spiegare. Sei un buon amico di Mr. Ferrari? Sì. Di quanto anni fa? 15 anni. Wow. E hai metto il suo padre? Non, non, mio padre non. Io lo so, io lo so, io lo so, io lo so, il suo figlio, il suo figlio, il suo figlio, ma non il suo padre. E cosa pensi di fare la famiglia Ferrari? È un bellissimo nome nel mondo. In Italia è come la famiglia royal. È una famiglia che è storica in ogni quattro dove vedi al mondo. È una legenda. che abbiamo in Italia, è importante. Tutto dove vedi al mondo, tutti lo conoscono. È una famiglia. E per la Romania, cosa ti piace la più qui? Tutto. La Romania è bella. Le persone, la città, il paese, il paese, tutto. La città è molto bella. La città è molto bella. E dove ti piace più? Italia o Romania? Per sicuramente, sono italiano e mi piace molto l'Italia. Ma per un italiano, quando arrivi a Romania, ti senti a casa. Perché in Romania c'è molta similità, qualcosa di simile a l'Italia. Ci sono molte cose. Vedi quante volvii da Roma, ti senti a casa.